Oggi, 18 ottobre 2019, è un venerdì, tempo molto molto nuvoloso. Hanno detto che per 3 o 4 giorni c'è brutto tempo, pioggia, è un programma decisamente autunnale. Infatti oggi parto un po' più tardi, prendo il treno alle 14.52 da Cadorna e vado a Cicchiglio. Voglio parlarvi un attimino, una breve documentazione di questo paese. È situato, Cicchiglio, all'imbocco della Valcuba, Cuvia esattamente, ai piedi del monte Sasso del Ferro e del monte Nudo. Cicchiglio ha un'altitudine sul livello del mare di 254 metri. Raggiungendo però il punto più alto è 720 metri della località di Vararo. Dista dunque soltanto 4 chilometri dal lago Maggiore e da una superficie territoriaria di 11,50 chilometri quadrati. Sì, ho detto quasi tutto giusto perché mi sono informato e devo dire che oggi da Cadorna parto per questo Cicchiglio dove c'è una bella pista ciclabile raggiungibile a 4 chilometri a piedi fino all'Aveno. Poi devo dire che Cittiglio ci sono in alto le cascate di Cittiglio e in più per le mie visite mediche c'è anche l'ospedale. Per ora non mi serve, mero male. L'importante è avviarmi a camminare la mattina che è molto difficile per me incominciare la giornata perché anche il tempo è molto molto nuvoloso. Comunque do il via col mio diario di bordo, oggi è un po' più tardi del solito. Spero dopo le vicende quotidiane mettere a posto la casa la mattina, riprendere un bel pomeriggio di questa giornata del 18 ottobre 2019. Tempo decisamente autunnale, si vede dal cielo.